È Palazzo Datini e come pretese bisogna essere orgogliosi. In tanti hanno approfittato dell'apertura straordinaria della Casa Museo di Palazzo Datini nell'anniversario dell'esequio e per tornare a scoprire le antiche stanze in cui sono passati sovrani e papi. Francesco di Marco Datini, morto il 16 agosto del 1410, aveva lasciato scritto nel testamento che ogni anno un canonico della cattedrale celebrasse una messa in suo ricordo e così è stato, la tradizione si è ripetuta oggi nella chiesa di San Francesco dove sono conservate le spoglie del mercante. La celebrazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro alla statua in piazza del comune. Dopo la messa è stato possibile visitare Palazzo Datini, ancora chiuso a causa dell'emergenza sanitaria. Nonostante siamo al 17 agosto abbiamo avuto all'incirca una cinquantina di prenotazioni più tutte le persone che pur non avendo prenotato avevano partecipato alla messa e che quindi la mattina hanno partecipato anche alle visite guidate. Non ce lo immaginavamo, questo ci fa capire che la città di Prato ancora ama molto Palazzo Datini e la figura del noto mercante pratese Francesco di Marco Datini. È stato possibile visitare per la prima volta anche le cantine del palazzo da poco restaurate. La novità diciamo di quest'anno, questo spazio, forse la curiosità un pochino ha invitato tanti pratesi a venire però devono venire sempre, non quando si inaugura qualche cosa perché Casa Datini è sempre aperta. Il primo settembre li apriamo completamente. Il primo settembre Palazzo Datini riaprirà dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina e sarà possibile effettuare la visita al suo interno a gruppi di 15. Noi come Fondazione Datini abbiamo sospeso che quest'anno la settimana di studi è rimandata al prossimo anno. Riguardava la moda, speriamo che il prossimo anno la moda riesca a dare una sterzata a questo momento veramente difficile. Grazie a tutti.